Al comunale di San Giovanni Marignano si sono affrontate sotto un temporale marignanese e Borghi. La partita è terminata sull'1-1 dopo una prima metà di gara ricca di emozioni e una seconda forse condizionata dal campo pesante e dal conseguente abbassamento di ritmo. Questa è la cronaca del match. Al terzo minuto, prima occasione per il Borghi. Punizione della tre quarti, battuta di seconda, gran botta di Mantovani, maleardini dei vie in angolo. Al sericesimo minuto si fa vedere la marignanese. Cross teso di Camiellini dalla sinistra. Duranti stoppa in area ma forse aspetta un po' troppo a calciare. Sulla respinta prova la sventola al volo Serafini. Pallone però addirittura finisce fuori dallo stadio. Al ventitresimo minuto, altra occasione per la marignanese. Dopo un'azione prolungata, Serafini libera Grassi che fa partire un diagonale velenoso. Pallone però finisce sul fondo. Al venticinquesimo minuto, altra occasione per la marignanese. Duranti mostra tutto il suo talento di cui dispone. Su una palla lunga di prima, al volo esegue una splenta rovesciata dai venti metri, che finisce però al lato di poco. Il primo tempo termina sullo 0-0. Secondo tempo che parte in maniera scoppiettante. Al terzo minuto, grande apertura sulla sinistra per Arrucci, che punta a Santoni. Lo salta e viene atterrato dallo stesso Santoni che gli frana addosso. Dal dischetto va lo stesso Arrucci, che la piazza sotto l'incrocio e sigla l'1-0 per gli ospiti. Sesto minuto e subito marignanese. Reazione immediata della squadra di casa. Sul capovolgimento di fronte, cross dalla destra di Grassi. Al centro area si fa trovare il bomber numero 9 di casa, Gianmarco Duranti, che col piattone pareggia il punteggio e rimette la partita sui binari dell'equilibrio. È 1-1. Al quarantaduesimo minuto, ancora un'altra occasione per la squadra di casa. Santoni lanciato a rete, calcia al volo, ma spreca tutto tirando il pallone altissimo. Si salva un'altra volta al Borghi. Al quarantottesimo minuto, terzo minuto di recupero dei quattro dati dall'arbitro, ultima occasione per la squadra di casa. Punizione di Marchetti, ma parata facile da Stolfi. Termina la gara sul risultato di 1-1. Un risultato che tutto sommato va stretto alla squadra di mister Angeloni, che raccoglie solo un punto dalla partita disputata tra le mura amiche. Tante le occasioni non sfruttate dai padroni di casa, che forse, se giocate meglio, ci avrebbero fatto raccontare un epilogo diverso. Allora, mister, un 1-1 forse è un po' troppo stretto per la sua squadra. Ma è stretto. Purtroppo il campo ha detto questo, però al di là del risultato, sono contento della prestazione che ha fatto la squadra contro una squadra forte. A mio avviso è una delle più forti che ho visto in questo campionato. Le prestazioni, soprattutto, abbiamo visto un grandissimo Grassi e un grandissimo Duranti. Ma sono due ragazzi che hanno delle potenzialità, ma io adesso non vorrei fare dei gradini, delle scale di merito. Ci siamo andati abbastanza bene tutti. È chiaro che è una squadra che è abbastanza nuova per certi ruoli, ruoli importanti, deve ancora conoscersi. E soprattutto in queste quattro partite iniziali, a mio avviso, abbiamo raccolto qualcosa in meno di quello che dovevamo raccogliere. Però il campionato è lungo e noi cercheremo di dare del nostro meglio sempre, in ogni caso. Ecco, forse un avvio sia di primo tempo che di secondo tempo, più improntato sulla difesa che sull'attacco, poi siete venuti fuori molto bene. Ma non è che rimprontato, c'è da considerare l'altra squadra. L'altra squadra è una squadra che ha un buon palleggio, giocano bene e quindi hanno dei giocatori validi come sono validi i nostri. Quindi è normale che nel corso della partita ci siano dei momenti dove la predominanza del gioco c'è l'altra squadra. E questo è successo all'inizio dei due tempi. È stata una partita abbastanza aperta, l'abbiamo interpretata nel modo giusto. Sapevamo che affrontavamo una squadra di rango, con dei nomi importanti per questa categoria. L'abbiamo affrontato nel modo giusto, abbiamo cercato le soluzioni che sono nostre, con intensità e con velocità. Il gol che siamo riusciti a fare non siamo riusciti a godercelo, nel senso che dopo neanche i 50 secondi abbiamo preso il pareggio. Questo da una potenziale situazione favorevole si è tramutata in un attimo di smarrimento. Dopo ci siamo un po' ricompattati, la partita è diventata un po' più spezzettata e quando contro questi giocatori qui la partita diventa spezzettata appunto si rischia, si rischia da palla in attiva soprattutto perché hanno dei buoni esecutori e quindi niente. Dopo tutto sommato abbiamo avuto anche le nostre occasioni, le ha avute anche la Marignanese, penso che il risultato sia anche abbastanza giusto. Non è che giocare in trasferta sia più difficoltoso che giocare in casa. Bisogna interpretarle comunque bene, cambiano gli interpreti, cambiano le squadre, però se tu l'affronti bene non siamo davanti a 80.000 persone, penso che non è che influisca un campo o l'altro, quindi noi dovremmo essere bravi anche mercoledì. Veniamo da un tour de force, questo sì perché abbiamo giocato in Coppa per due mercoledì a fila, in seguito a una sospensione abbiamo rigiocato e quindi niente, ci siamo ancora e avremo modo quest'altra settimana ancora di allenarci con più serenità e senza avere l'assilo della partita infrasettimanale. Tutto sommato come giudica la prova dei suoi ragazzi? Beh i ragazzi sanno quello che devono fare, l'ha messo in campo, è chiaro che quando il risultato non è pieno, anche a volte quando è pieno, ci sono sempre delle cose da limare, delle cose da verificare e da allenare, se fossimo perfetti alla quinta di campionato, alla quarta, sarebbe già forse troppo a cosa.